Buonasera, mi chiamo Michele Mirabella e ho avuto l'onore, più che l'onere, di cercare di capire qualcosa, e credo che ci riuscirò perché la tenuta oratoria dei presenti sia online sia qui nello studio è altissima, di capire qualcosa di questa esperienza formidabile della scienza che si chiama la clinica, lo studio clinico, l'importanza della ricerca clinica, ringrazio l'Accademia del paziente esperto che si chiama Eupati, che ha ideato l'iniziativa e ringrazio anche la società Olympus per il contributo non condizionato che ha dato al fare noi questa analisi e questa collettiva riflessione sulla ricerca clinica, brevissimamente i presenti sono assecondati anche dal lavoro di persone che sono distanti da questo studio e che comunque riusciranno grazie alla tecnologia a farci avere la loro testimonianza che a noi ha molto a cuore, piccolissima riflessione microscopica sulla ricerca clinica, quello che mi ha entusiasmato è poter andare a riflettere guardando le vecchie carte sulla età storica della ricerca clinica, praticamente nasce con l'uomo, è la riflessione che fa l'uomo sul suo stare al mondo, purtroppo funestato, troppo spesso nell'antichità e non è detto che ancora noi ce lo dobbiamo ricordare dalla malattia, la malattia diventa tale nel momento in cui si scopre tale, in cui c'è qualcosa che non funziona nel transito della vita, dei giorni, dei mesi, degli anni e soprattutto la riflessione arriva quando dalla malattia si guarisce e l'uomo antico non sapeva come, qualche volta neanche l'uomo moderno e poi si ripresentava e sulla recidiva consapevolmente sopportata che nasce la riflessione individuale del paziente che si fa medico di se stesso e comincia a raccontare quello che gli è successo. Mi fermo qui, perché la storia sarebbe lunghissima, dovremmo arrivare addirittura all'esperienza di Semmelweis che di tutte le analisi cliniche fece quella che mi affascina di più, lo studio di corte, lo studio di corte è lo studio di un gruppo di persone, pazienti, assommati e radunati dalla stessa caratteristica, dalla stessa condizione sociale, culturale, di genere, di sesso, addirittura di condizione generazionale. Mi fermo qui e vi presento subito gli ospiti che sono veramente delle personalità, cominciamo dal professor Giovanni Scambia che è direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli dove noi siamo ospiti, istituto di ricerca e cura etc. Il professor Guido Costamagna è direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale UCSC, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. Perdonatemi se non tutti gli acronimi siano a mia disposizione, io non li conosco tutti ma vi fiderete naturalmente. Il professor Costamagna è presente in questo nostro studio e mentre il professor Scambia è in collegamento con noi. Così come nello studio c'è il professor Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento di Agnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica, Dematologia, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, sempre istituto di ricerca etc. Paola Kruger che è paziente esperto dell'Eupati. L'Eupati è un'organizzazione straordinaria europea che raduna una specie di accademia di pazienti che sono diventati per l'appunto coscienti e consapevoli della propria condizione e hanno fatto la scelta più bella, più saggia, più generosa, più altruista, quella di condividere con gli altri, noi, la loro condizione ai fini didattici, speculativi, filosofici, scientifici è la testimonianza più straordinaria. Quell'uomo troglodita a cui facevo il riferimento all'inizio, dentro di sé l'ha inventato l'Eupati, ha detto devo comunicare a tutti gli altri quanto mi sono sentito male e come mi sono sentito meglio se ho fatto questo e questo. Con la condivisione è la base della cultura scientifica. Mi fermo qui perché voglio condividere l'opinione e il punto di vista di questi nostri amici a cui si aggiunge Stefania Canarecci, Presidentessa di Amici, questa cronima è il più bello di tutti, Amici Lazio, Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, e Giulio D'Alfonso, direttore dell'osservatorio Trial, ecco Trial, come vuole lei, scelga lei e che rappresenta, me la so, immaginavo, c'è sempre una parola inglese in agguato, una parola, se sopravvive una sola parola italiana nelle vostre conversazioni siamo già fortunati. Molto bene, diamo senz'altro il via, io voglio salutare personalmente il Presidente Giovanni Scambia a cui mi lega una grande amicizia, un grande rispetto, una grande stima. A lei la parola, Professor Scambia. Allora, grazie intanto e un saluto anche a me perché veramente ci lega oramai un'amicizia profonda. Chiunque di noi oggi vuole pensare di muoversi in un ambito di ricerca non può fare a meno di collaborare con le associazioni di pazienti che si occupano di questo. Le pazienti diventano un momento fondamentale per capire, spiegare e far rendere di successo la ricerca che facciamo. Che poi vuol dire, come sappiamo, che fare ricerca ci aiuta a curare meglio le malattie. Quindi diventa veramente fondamentale. Detto questo, a me è stato chiesto di darvi qualche dettaglio sui progressi tecnologici, in particolare nella prevenzione delle malattie ginecologiche. Io ho scelto tre esempi che volevo farvi vedere. Se voi vedete in realtà prendersi cura della donna e fare prevenzione per le donne vuol dire farla a 360 gradi e quindi farla veramente in tutte le età della vita, a partire dall'adolescenza fino poi alla maturità e alla menopausa. Ma soprattutto, e questo vorrei dirlo, io parlerò soprattutto di prevenzione oncologica, però ci tenevo solo a fare una premessa che in realtà fare prevenzione vuol dire farla in realtà dall'età prenatale, perché quella che noi sappiamo bene essere il risultato finale, cioè il feto che noi vediamo alla fine, il bambino che nascerà, è fatto anche di tante interazioni che si verificano durante la vita all'interno dell'utero. E queste attenzioni che la mamma deve avere in gravidanza, quando mancano, si possono tradurre in modifiche epigenomiche poi nel feto che rimangono e che in ogni caso ne condizioneranno poi la vita e la salute futura. Ci sono tantissimi esempi di questo che non vi faccio, però veramente va ricordato, cioè fare prevenzione vuol dire farla dal momento della gravidanza, che vuol dire, visto dal punto di vista del feto, farla proprio in età fetale. Ci sono tantissimi disturbi soprattutto neurologici e di comportamento che vengono proprio da cattive abitudini in gravidanza, dall'alcol e da fattori ambientali. Detto questo, andando sul tema della ginecologia oncologica, che è quello forse che si presta meglio dal punto di vista di fare un discorso di prevenzione, io credo che in ginecologia oncologica noi abbiamo tre tumori fondamentali, il tumore della cervice, il tumore dell'endometrio e il tumore ovarico. Vi ho messo in rosso il tumore della cervice dell'ovaio perché vi parlerò di questi, perché se voi guardate le curve vedete che la curva di sopravvivenza del carcinoma dell'endometrio, anzi il dato di sopravvivenza che vedete l'encato è circa l'82%, vi dice chiaramente che questo tumore noi lo curiamo molto bene, dobbiamo solo imparare a curarlo nella maniera meno invasiva possibile, mentre abbiamo ancora dei problemi importanti per il tumore della cervice e per il tumore dell'ovaio. E il motivo per cui ho selezionato questi due esempi è perché sono due esempi diciamo molto paradigmatici. Nel cancro della cervice, guardate questi sono i numeri, ogni anno diciamo in Europa ci sono 25.000 decessi per tumore della cervice e nel mondo 275.000 di un tumore di cui noi oggi sappiamo veramente praticamente tutto, cioè conosciamo perfettamente la storia naturale, sappiamo che è legata a un'infezione da virus, da papillomavirus, sappiamo i tempi di sviluppo di questa neoplasia, sappiamo anche che sono dei tempi lunghi, quindi è un tumore del quale veramente dovremmo dire che conosciamo tutta la storia naturale e quindi l'eziopatogenesi ed è un tumore per il quale facciamo prevenzione dal secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso con i metodi che tutti conosciamo, il pap test, la visualizzazione del collo dell'utero con la colposcopia, però è un tumore per il quale si è avuta a un certo punto, proprio parlando di tecnologie nuove, un'accelerazione enorme perché vedete che da quando poi si è scoperto che il papillomavirus era il motore fondamentale e l'agente fondamentale per lo sviluppo del cervico carcinoma, quindi parliamo degli anni 90, in pochi anni si è arrivati a un test di screening molto sensibile che è quello del test al DNA del papillomavirus e addirittura un vaccino, quindi è una storia di medicina di grandissimo successo, abbiamo un vaccino per prevenire questo tumore e abbiamo un test, quello del papillomavirus a DNA che è veramente un test super sensibile per diagnosticarlo in fase precoce o in fase appunto pretumorale, quindi per diagnosticare lesioni pretumorali. Questo è lo schema attuale di prevenzione che vede il test del papillomavirus come il test fondamentale, soprattutto sopra i 30 anni e questa diapositiva vi dice una cosa importantissima che praticamente il 90% di questi casi di tumore sono legati a un'infezione da questi ceppi di HPV e l'HPV ricordiamoci che è un virus stabile, cioè un virus che lo trovate uguale oggi come era nelle tombe dei faraoni, per cui è un virus che si presta benissimo alla vaccinazione perché non cambia e guardate queste sono le curve, se noi praticassimo in maniera efficace la vaccinazione col vaccino ultimo, la linea rossa che vedete, guardate come crolla il cancro al collo dell'utero e allora qui una riflessione non la deve fare. Oggi teoricamente se noi praticassimo con le tecnologie moderne la vaccinazione associata anche alle tecniche tradizionali, sostanzialmente non dovrebbe morire più nessuno di cancro al collo dell'utero e io vi assicuro che ogni volta che vedo una donna che muore di cancro al collo dell'utero veramente mi fa male perché non dovrebbe succedere. Allora questo è un esempio di come noi abbiamo una tecnologia di avanguardia ma ancora non riusciamo ad applicarla in maniera efficace anche in regioni come l'Europa o come gli Stati Uniti, quindi regioni ad alto sviluppo tecnologico. Quindi questo è un esempio di tecnologia disponibile, dobbiamo solo imparare a usarla per bene. Ha completamente diverso il tema carcinoma ovarico che è un tumore molto più insidioso del quale fino a, se io avessi dovuto fare questa presentazione qualche anno fa avrei detto non c'è nessuna possibilità di prevenzione. Oggi invece sempre grazie alla ricerca, allo sviluppo delle tecnologie sappiamo che il 25% di questi casi sono più o meno su base ereditaria e forse anche di più. Cioè 25% di casi di carcinoma ovarico sono legati a alterazioni igieniche che noi oggi sappiamo riconoscere e sappiamo individuare. Per darvi un'idea di quanto è cambiato, e soprattutto sappiamo che questo tumore, questa è un'informazione importante, insorge nelle tube e poi si sposta nell'ovaio e nella cavità peritoneale. Tenete a mente queste due cose. Abbiamo una signa genetica che ci predispone a questo, sappiamo esattamente da dove nasce. Questa è un'informazione importantissima. E se guardate questa diapositiva, vi fa vedere una cosa molto semplice, che prima, guardate la parte di destra. Fino a qualche anno fa, noi avevamo solo delle cose molto generiche per identificare le pazienti al rischio. La non riparità, l'avere avuto l'endometriosi, l'obesità, aumenti del rischio di una o due volte. Oggi, se voi guardate la tabella a sinistra, vedete che una donna che ha una mutazione di questo gene ha una probabilità 40 volte superiore di sviluppare un cancro ovarico rispetto alla popolazione normale e 6-7 volte superiore di sviluppare un carcinoma della mammella. E la curva di sviluppo è progressiva durante l'età. Cioè, alla fine, se hai questa mutazione, presumibilmente svilupperai un cancro dell'ovaio o della mammella. Questo ha portato poi tutte le società scientifiche a dire, bene, queste donne, se hanno una mutazione, tra 35 e 40 anni, o massimo 45 anni, devono praticare l'asportazione delle ovaie. Perché questo è l'unico sistema che abbiamo per prevenire l'insorgenza di questo tumore. E che questa cosa funzioni, non guardate tutti i numeri, prendete solo il dato che vi do io a voce, se noi pratichiamo al momento opportuno l'asportazione delle tube dell'ovaio, noi preveniamo il 90% dei casi di tumore familiare dell'ovaio. Quindi agiamo in maniera significativa su quel 25% che è su base familiare. E allora vedete che la ginecologia diventa la prima specialità che ha una chirurgia molecolarmente guidata. E cioè io vado a operare in maniera preventiva una persona che sta bene in quel momento perché ha un'alterazione del DNA. Questo vi rendete conto che è un salto culturale enorme e di grandissima importanza. E oggi lo posso fare, parliamo di tecnologia, con una chirurgia che oggi chiamiamo altamente minimamente invasiva. Non è nemmeno la laparoscopia standard. Sono addirittura degli strumenti di 3 mm, addirittura più piccoli o addirittura solamente dall'ombelico, quindi con un'invasività minima, noi riusciamo a prevenire un tumore che ha una mortalità invece altissima. E ricordiamoci anche che prevenire e togliere le ovaie in queste pazienti vuol dire anche dimezzare il rischio di tumore della mammella alle quali loro sono predisposte. Ma si pone un problema ovviamente in termini di salute globale. È chiaro che se io tolgo le ovaie a una donna di 35-40 anni induco dei problemi importanti legati alla menopausa precoce. Allora una linea di pensiero ancora non supportata totalmente scientificamente è tolgo a 35-40 anni, potrei togliere solo le salpingi, quindi solo le tube, lasciare le ovaie e che poi toglierei eventualmente al momento della menopausa. Ma ricordiamoci quello che vi dicevo prima, cioè che il tumore ovarico insorge nelle tube, quindi se io tolgo le tube presumibilmente prevengo il tumore dell'ovaio. Però ricordiamoci anche che tutte le pazienti che fanno una chirurgia preventiva per il tumore dell'ovaio, quindi una asportazione delle ovaie in età da 35-40 anni, possono, anzi debbono, fare la terapia ormonale sostitutiva che gli previene tutti i rischi legati a questa asportazione precoce in termini di incidenza di malattie cardiovascolari o di osteoporosi per esempio. Allora è chiaro che quindi parlando di tumore ovarico, quella che io vi ho definito fino ad oggi è quella che definiamo prevenzione del tumore ovarico a cascata, e cioè io parto dalle famiglie e vado a cercare, che hanno questo rischio, vado a cercare il gene BRCA, se ho una mutazione pratico l'asportazione delle ovaie, resa famosa oramai da Angiolina a Giolì che è stata quella che poi è valsa molto di più a sensibilizzare la popolazione di quanto possiamo fare noi con i nostri congressi. Allora cosa vuol dire prevenzione a cascata? Che oggi tutte le pazienti che hanno un carcinoma ovarico fanno il gene BRCA, se queste pazienti hanno l'alterazione si va a ricasco su tutta la famiglia per vedere chi ha il gene alterato e si pratica l'annessictomia profilattica. Facendo in maniera sistematica questo, signori, noi possiamo oggi pensare di prevenire il 90% dei tumori ovarici su base familiare, che sono il 25% del totale. Quindi un numero significativo. Allora ci si può poi chiedere, ma per tutto il resto, per l'altro 75%, fino ad oggi non avevamo nessuna idea. Oggi iniziamo ad avere qualche dato che vi faccio vedere e in questo grafico, in cui vedete che oggi si può pensare di fare un'attività di prevenzione del tumore ovarico non su base familiare, in vari modi. Uno dei modi per esempio è ecografia transvaginale e marker tumorali fatti secondo certe sequenze, certi intervalli che sono definiti benissimo in uno studio inglese interessantissimo. Vedete, la curva rossa è la flessione dell'incidenza di casi di tumore ovarico in pazienti che stanno facendo lo screening di questo tipo rispetto alla curva blu che è l'incidenza nel gruppo di controllo. Questo è un dato secondo me di grandissimo interesse ed è un modo col quale forse faremo prevenzione del tumore ovarico in futuro anche nella popolazione non mutata. L'altro dato che ci tenevo a citare, perché poi c'è un'interazione tra la nostra specialità e le altre ed è una cosa di cui ho discusso proprio poco fa con la società europea di chirurgia colorettale. Quella che noi in ginecologia chiamiamo la salpingectomia opportunistica e cioè cosa vuol dire? Che tutte le volte che un ginecologo pratica un intervento sull'utero asportando l'utero, oggi noi asportiamo in premenopausa sempre anche le salpingi e in postmenopausa anche le ovaie e le salpingi. Perché questo? Perché questa che si chiama salpingectomia opportunistica, cioè fatta solo opportunisticamente anche se sto facendo un'altra cosa in quel momento, riduce il rischio di tumore ovarico anche non familiare fino al 65%, senza complicanze e senza in premenopausa, togliendo solo le tube, compromettere la funzione ovarica. Questo è un dato importantissimo che ci sta portando a ragionare con la società europea di colon proctologia. Ma perché non pratichiamo questo anche in tutte le pazienti che fanno una chirurgia per motivi tipo gastrointestinale? E c'è un unico studio che ha effettuato questo collega austriaco proprio in termini di chirurgia elettiva gastrointestinale in cui ha tolto sistematicamente anche le salpingi proprio per vedere di quanto gli allungava l'operazione e di quante complicanze faceva. Allungamento bassissimo, complicazioni praticamente nulle. Quindi quello che secondo me è una prospettiva per il futuro della prevenzione del cancro ovarico anche su base non familiare è proprio togliere le salpingi tutte le volte che ci troviamo all'interno dell'addome anche per motivi diversi. Questo è ovviamente ancora materia di studio ma probabilmente il futuro è più le tecnologie e la ricerca andrà avanti più questo sarà semplice da fare e con pochi effetti collaterali. Allora io concludo con quest'immagine che mi piace molto l'ho vista in una chiesa di Scanno e è un pittore russo che dipinse questa donna primi del novecento che era una lavoratrice nei campi che oltre a lavorare mentre lavorava negli intervalli allattava anche un bambino. Allora credo che il ruolo nostro oggi come ginecologi è quello veramente di guardare a una donna che oramai veramente è una lavoratrice, è inserita in una società in cui ha un ruolo importante e quindi dobbiamo fare una prevenzione effettivamente di grande efficacia e mettendo a disposizione tutte le tecnologie che abbiamo e sensibilizzando alla ricerca perché dove si fa ricerca si fa anche prevenzione migliore. Quindi tecnologia oggi per me vuol dire fare interventi preventivi con un costo in termini di complicanze bassissimo, migliorare e partecipare a trial di prevenzione personalizzata sulla base delle caratteristiche molecolari di ognuno di noi per cui possiamo identificare dove siamo più a rischio migliorando le nostre performance in termini di caratterizzazione del genoma. Quindi benvenga a tutte le azioni che sensibilizzano le nostre donne a partecipare ai trial di prevenzione. E qui approfitto a dire che se partiremo insieme alla società europea di colontroctologia con un trial di prevenzione del tumore ovarico basato sulla salpingectomia in tutti gli interventi addominali sarà importantissimo il ruolo di un'associazione che spieghi e aiuti a far partecipare le persone a questo trial. Bene, io vi ringrazio molto dell'attenzione e spero di essere stato chiaro e mi pare più o meno nei tempi che avevo. Grazie professor Scambia, il suo intervento affascinante è la dimostrazione che la speranza va modulata sulla scorta della scienza e quando i due atteggiamenti esistenziali si fondono noi abbiamo veramente la chiarezza, io ho capito tutto di quello che ha detto il professor Scambia e capire tutto di quello che dice un medico significa che il medico è bravo e quindi lui non è bravo, è proprio bravissimo e qui mi onora che abbia ricordato che ci diamo del tu. Moduliamo insieme la speranza coniugandola con i valori del sapere e della scienza. Posso dire Michele, se posso, ho anche risposta a quella domanda di Elisir a cui non avevo saputo rispondere quella volta. Io ti conservo il mio affetto indiscutibile e la mia enorme stima Giovanni. Grazie di cuore per aver partecipato, spero di non essere stato di ostacolo, grazie, comunque non vedo l'ora di telefonarti per sapere questa risposta. Anche Costa Magna la vuole sapere perché naturalmente vuole essere della partita. Dimmela, no? Beh, è complessa, però è vero quello che dicevi, cioè che anche in patologie particolari, ovviamente tipo endometriosi, così esiste una familiarità che viene dalla linea paterna e quindi era la domanda che mi avevi fatto ed è così. Ho anche trovato degli esempi e appena ci vediamo te vi dirò. Sono stato colpito e affondato perché la mia domanda era ma la linea ereditaria delle malattie tipicamente femminili passa anche dal papà e il professor Scambia con una straordinaria intuizione della dignità del sapere ha detto non lo so. Adesso lo sa. E un pochino, un poco poco poco, è anche merito della mia sfacciataggine. Assolutamente. Ti voglio bene. E allora voglio bene anche al professor Costa Magna che è qui con noi e che è pronto ad affrontare e lui è il direttore, come tutti sanno, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Translazionale, ha detto bene questa volta, Fondazione Policlinico Universitario, ovviamente, Gemelli. Prego, professor Costa Magna, a lei la parola. Grazie, ma anche noi ci davamo del tu una volta. Eh vabbè, allora il tu è imposto dall'autorità scientifica. Ci diamo tutti del tu. Prego, dimmi tutto. Allora, il mio compito è quello di dirvi due parole sulla prevenzione oncologica in gastroenterologia, nelle malattie dell'apparato digerente e di fare qualche accenno sull'innovazione tecnologica che accompagna questa prevenzione oncologica. Tanto per darvi la dimensione del problema che si sono dati nel Ministero della Sanità, un tumore su quattro tra quelli registrati colpisce l'apparato digerente e purtroppo a cinque anni dalla diagnosi vedete che i sopravviventi non sono tantissimi, in particolare per alcuni tipi di tumore, quali l'esofago e il pancreas. Parliamo di prevenzione, non voglio annoiarvi con le definizioni, però abbiamo sentito parlare di vaccino e questo fa parte anche della prevenzione primaria come il controllo dei fattori di rischio. Noi ci occupiamo soprattutto di prevenzione secondaria in gastroenterologia e cioè cerchiamo di individuare, trattare le lesioni precancerose e naturalmente di applicare dei programmi di screening. Due parole sulle caratteristiche dello screening che credo siano molto importanti perché sono dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il tipo di tumore deve naturalmente costituire un problema di salute rilevante, ci deve essere la disponibilità di un trattamento validato in grado di curare la malattia, ci deve essere una riconoscibilità di stato latente e deve essere accettabile per la popolazione, perché parliamo di popolazione sana naturalmente, non di malati, deve essere sicuro, deve essere soprattutto economicamente sostenibile, e questo vedremo nel caso dello screening del cancro colorettale, quali sono le diverse strategie che sono adottate nei diversi paesi, deve essere naturalmente attentibile, quindi avere un'alta sensibilità e specificità. In gastroenterologia di che cosa possiamo occuparci? Ci possiamo occupare dell'esofago di Barrett e cercherò di rispondere a questa domanda, se dobbiamo preoccuparci, vedo sempre dei pazienti estremamente preoccupati quando mi vengono a trovare perché hanno avuto questa diagnosi, in realtà non è così. I rapporti tra helicobacter piroli e il cancro gastrico, l'eterno dilemma se mandarlo via o non mandare via questa bestiolina, il cancro colorettale che la fa da padrone nella prevenzione in gastroenterologia perché abbiamo dei programmi di screening molto efficace e purtroppo invece ancora molti punti interrogativi sul tumore del pancreas perché noi conosciamo o cominciamo a conoscere bene alcune lesioni preneoplastiche ma non sappiamo se le possiamo prevenire. Nel caso del cancro esofageo è un cancro che ha due caratteristiche di istotipi prevalenti, può essere un carcinoma squamocellulare che insorge di solito nei due terzi superiori o l'adenocarcinoma che è in aumento, ahimè, che colpisce il terzo inferiore, l'aggiunzione esofago-gastrica ed essenzialmente il sesso maschile. Perché c'è questo aumento? Perché la malattia del reflusso gastroesofageo in alcuni casi può portare allo sviluppo di quello che è conosciuto come l'esofago di Barrett. L'esofago di Barrett non è altro che la trasformazione di una parte della superficie mucosa dell'esofago a livello dell'aggiunzione tra l'esofago e lo stomaco in una mucosa cosiddetta metaplasica che non è più quella tipica dell'esofago, piatta, pluristratificata come la pelle, ma è una mucosa che assomiglia a quella intestinale. Questo colpisce, vedete, una proporzione abbastanza bassa della popolazione generale, però purtroppo spesso è asintomatico. Questi pazienti hanno una malattia del reflusso con pochi sintomi e però costituiscono l'8-20% di tutti i pazienti con sintomi della malattia del reflusso gastroesofageo. E quindi una proporzione abbastanza importante. Una piccola parte di questi può sviluppare l'adenocarcinoma esofageo e quindi questa è la preoccupazione. Perché però dobbiamo essere meno preoccupati oggi? E qui intervengono alcune innovazioni tecnologiche importanti. Innanzitutto bisogna confermare la diagnosi con una biopsia, non basta l'aspetto suggestivo dell'esame endoscopico e soprattutto noi possiamo studiare e mettere in evidenza molto meglio le zone a rischio di albergare già delle alterazioni di tipo preneoplastico con dei filtri che vengono utilizzati ormai rutinariamente da qualche anno. In questo caso si tratta del neuroband imaging che riesce a separare le lunghezze d'onda della luce rossa, verde e blu e darci una immagine molto più precisa, come vedete in questa seconda diapositiva, in questa seconda fotografia, della superficie dell'esofago di Barrett. E poi gli va dato un nome e un cognome, quindi la lunghezza, l'estensione e devono essere fatte delle biopsie con un metodo corretto che è conosciuto come protocollo di Seattle che purtroppo molto spesso viene disatteso. Non essendo appunto una condizione molto frequente, quella del cancro dell'esofago su Barrett, non esiste nel nostro paese una campagna di screening, però è importante individuare l'esofago di Barrett, appunto dargli un nome e un cognome e quindi definirlo nella sua estensione e nelle sue caratteristiche istologiche perché questo ci permette di stabilire gli intervalli di sorveglianza. Se non c'è displasia, cioè se non c'è alterazione della struttura cellulare di questa mucosa metaplasica, vedete che le sorveglianze sono anche abbastanza lunghe. Se è corto, tra 1 e 3 cm, 5 anni. Se è superiore a 3 cm, 3 anni. Se è superiore a 10 cm, bisogna cominciare a essere un pochino più preoccupati. E poi l'altro aspetto importante è che bisogna stabilire se c'è o non c'è displasia, perché la presenza di displasia è quello che fa decidere se intervenire o sorvegliare soltanto. Quindi noi possiamo oggi intervenire in molte maniere per portare via questa parte malata con displasia e permettere alla mucosa dell'esofago di ricrescere una mucosa normale. Vedete che ci sono delle tecniche termiche. Tutte queste sono tecniche endoscopiche mini-invasive, in particolare l'argonplasma coagulazione, la crioblazione, quindi col freddo, l'ablazione con radiofrequenza, o anche non termiche, che portano addirittura via dei pezzi di mucosa esofagea con la resezione mucosa endoscopica o addirittura la dissezione sottomucosa, che può portare a sportare anche dei lembi molto grossi di mucosa alterata. Questo è un esempio di mucosectomia fatta con un cappuccio. Si crea uno pseudopolipo, praticamente iniettando dalla soluzione fisiologica, poi lo si strangola con un'ansa e si fa una polipectomia portando via il tessuto interessato e malato. Ma la cosa più importante che si fa oggi, se mi fa partire il filmato, questo è stato classificato come C10-M11. Cosa vuol dire? Che l'estensione circonferenziale di 10 cm e poi c'è una lingua che si estende fino a 11 cm. Essendoci displasia, c'è indicazione ad asportare a questa bucosa alterata per evitare la progressione verso altre lesioni più gravi e questo lo si fa con un sistema di radiofrequenza, cioè di un'elettrocoagulazione ad altissima frequenza che brucia il tessuto in maniera estremamente superficiale e precisa e quindi non fa danni in profondità. Porta via soltanto il tessuto malato. Qui vedrete un aspetto biancastro che non è altro che la mucosa di Barrett che viene asportata e quindi permette alla mucosa esofagea di ricrescere. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in grado oggi, se seguiamo bene questi pazienti, di individuare precocemente le alterazioni che possono essere pericolose e quindi portarle via. Io nella mia vita non ho mai visto un esofago di Barrett diventare cancro. Tutti i cancri che ho visto sull'esofago di Barrett purtroppo erano di prima diagnosi perché non lo sapevano di avere il Barrett. Quindi oggi facendo una follow up con attenzione siamo in grado di intervenire. Cancro gastrico è il quarto posto come causa di morte, l'età media è giovane, istologicamente può essere di vari tipi. Anche questo però in Italia, in Europa in genere, non è considerato oggetto di campagna di screening e la diagnosi è solitamente effettuata mediante una gastroscopia con biopsia fatta per altri sintomi, sintomi dispeptici. Qui però è fondamentale la qualità dell'endoscopia e soprattutto della cromendoscopia. Cromendoscopia significa colorare la mucosa che stiamo osservando per vederne le alterazioni precoci e questo lo possiamo fare meccanicamente iniettando dei coloranti o elettronicamente utilizzando appunto questi filtri che ci vengono dati insieme ai processori degli endoscopi. Nel gastriti, alcuni tipi di gastriti vanno fatte molte biopsie per anche in questo caso dargli un nome, un cognome e sapere come seguire questi malati. E vedete che anche qua gli intervalli di follow-up sono abbastanza lunghi perché se c'è una gastritia atrofica estesa alla metaplasia intestinale bisogna fare un follow-up ogni tre anni. Ma anche in questo caso se riscontriamo una displasia e riusciamo a localizzarla grazie alla qualità dell'endoscopia che facciamo siamo in grado di asportare queste lesioni e quindi di prevenire la progressione verso il cancro. Questi sono diversi aspetti della morfologia di cancri precoci quindi superficiali e vedete che è stato spruzzato del colorante che è l'indaco carminio che va nelle pieghe e rende più evidente delle alterazioni che potrebbero essere magari sfuggenti alla prima osservazione. E anche in questo caso noi siamo oggi in grado di asportare delle lesioni anche molto ampie con tecniche mini-invasive e quindi conservazione dell'organo anche di tumori già di adenocarcinomi superficiali non infiltranti quindi a basso rischio di presenza di metastasi linfonodali cambiando la vita al paziente perché conservare l'organo vuol dire cambiare la qualità di vita del paziente. Quindi estrema attenzione alla diagnosi precoce. L'eradicazione dell'elicobacter pylori va fatta in alcune condizioni naturalmente dopo trattamento endoscopico questa è quasi obbligatoria. E arriviamo al cancro colorettale il cancro colorettale noi conosciamo molto bene la storia naturale nella stragrande maggioranza dei casi segue questa sequenza polipo-cancro inizia come un tumore benigno poi cresce e piano piano si trasforma in tumore maligno e quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo individuare queste lesioni quando ancora sono piccole e ammazzarle nel lettino prima che diventano cattive. Il rischio nella popolazione italiana è piuttosto alto vedete quasi l'8% per gli uomini e il 5% per le donne e aumenta con l'aumentare dell'età media. Chiaramente ci sono dei fattori di rischio che in questo caso sono molto legati alla familiarità soprattutto se c'è familiarità di primo grado vedete come il fattore di moltiplicazione va da 2 a 4 volte. Purtroppo in Italia muore ancora di cancro colorettale un uomo su 28 e una donna su 50 però molti guariscono molti guariscono per la qualità anche della chirurgia. Il miglioramento delle cure comunque è sicuramente legato anche all'estensione dello screening e la sopravvivenza della guarigione del cancro colorettale è legato alla sua prevenzione. Come si fa lo screening? In Italia lo screening come in molti paesi nella stragrande maggioranza dei paesi europei si fa sulla popolazione a rischio intermedio quindi in genere dopo i 50 anni fino ai 75 con il sangue occulto fecale. Il sangue occulto fecale che se positivo porta a un test di secondo livello che è la coloscopia con l'eventuale polipectomia che è quello che cambia la storia naturale del tumore. E il terzo livello naturalmente è la sorveglianza oppure nei casi in cui viene diagnosticato un cancro già non resecabile endoscopicamente con la chirurgia. Il sangue occulto fecale è un test semplice e abbastanza affidabile per appunto selezionare quei pazienti che devono andare a fare la coloscopia. La coloscopia ha molti pro a molte cose a favore è un esame in genere semplice e sicuro e ben tollerato ci sono nuove preparazioni intestinali a volume molto basso si può fare la diagnosi e nello stesso momento la terapia sportare i polipi può essere ripetuta dopo lunghi periodi in caso di non familiarità fino a 10 anni e quindi porta a un rischio della riduzione a una riduzione del rischio di mortalità per cancro e colorettale pensate quasi al 70% questi sono dati ormai più che validati in giro per il mondo peraltro è un esame invasivo è operatore dipendente perché la qualità anche dell'esame è importante ed è costoso e non è fornito come screening i soggetti asintomatici almeno in Italia e nella maggior parte dei paesi europei nel resto del mondo il sangue occulto fecale è il test di screening di scelta tranne in Germania qualche programma nel Regno Unito che si basa sulla sigmoidoscopia e negli USA non c'è perché come sapete è una sanità del tutto privata ed è basata soprattutto sullo screening con la coloscopia opportunistica però vedete il dato importante di questa diapositiva è che l'esecuzione di test di screening sulla popolazione interessata in Italia è stata del 45% solo quindi meno della metà con sostanziali differenze tra il nord il centro e il sud nel Lazio quindi questa regione è al 35% soltanto perché c'è poca aderenza al sangue occulto fecale e soprattutto c'è poca aderenza al secondo livello alla coloscopia e quindi purtroppo queste sono ancora i nostri dati però abbiamo un'arma in più anche qui tecnologica che è l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale che cosa fa oggi? Domina la nostra vita guida le macchine vende i libri batte gli umani a scacchi fa i soldi con gli algoritmi però oggi è anche in grado di farci vedere meglio cioè di attirare la nostra attenzione durante la coloscopia sulle lesioni che individua e individua con molta specificità e molta sensibilità guardate queste lesioni che stavano verso la periferia dell'immagine sono difficili a vedere l'intelligenza artificiale non sbaglia questi che sono un po' scuri lontani l'intelligenza artificiale ce le fa vedere queste che sono lesioni piatte che sono le più facili da non vedere e che sono responsabili della maggior parte dei tumori che sfuggono quindi alla prevenzione le fa vedere vi faccio vedere molto rapidamente tre esempi sono filmati brevissimi di qualche secondo può far partire il primo questo è il cieco ecco polipetto guardate di qualche millimetro beccato immediatamente una prossima questa è una lesione serrata piatta difficilissima da vedere intelligenza artificiale eccola lì la individua immediatamente questa è ancora una lesione serrata che quindi è un adenoma pericoloso perché può diventare un tumore anche in questo caso piatto guardate come ce la fa vedere immediatamente io credo che questa sia veramente una innovazione tecnologica molto importante abbiamo già molti dati questi sono una meta analisi dell'impiego di questa tecnologia in coloscopia e vedete quel quadratino nero è tutto sulla destra della colonna vuol dire che tutti gli studi sono positivi aumentando la possibilità di diagnosticare gli adenomi del 44% e non solo quelli piccoli inferiori ai 5 mm ma anche quelli intermedi e anche quelli di più di un centimetro vuol dire che l'occhio umano soprattutto se è la sera e stanco può non vedere alcune lesioni ci sono poi diversissimi campi in cui potrà essere utilizzata l'intelligenza artificiale in gastroenterologia nei quali non mi addentro due parole due sul cancro del pancreas l'incidenza è in aumento purtroppo resta una delle neoplasie a prognosi più in fausta con una sopravvivenza a 5 anni intorno al 5% purtroppo non esiste una prevenzione efficace se c'è una familiarità è probabilmente uno dei campanelli d'allarme da tenere presente abbiamo ancora dei dati molto incompleti in questo caso però bisogna essere inseriti in percorsi specifici in centri di riferimento perché le tecnologie che noi abbiamo a disposizione sono molto raffinate sono essenzialmente la risonanza magnetica nucleare e l'ecoendoscopia con eventuale aggo aspirato che può mettere in evidenza delle lesioni molto precoci e vorrei terminare con questa banalità prevenire è meglio che curare grazie 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 professor Costamagna io non direi trattarci di una banalità visto che l'umanità ammonisce nello stesso modo da 10.000 anni quindi evidentemente c'è del vero e come se c'è anche qui abbiamo imparato tante cose ma visto che l'assist come direste voi che avete viaggiato me l'hai fornito tu dicendomi parlandomi dell'intelligenza artificiale io ho il gioco facilissimo invitando il professore a parlarne il professore Vincenzo Valentini direttore del dipartimento diagnostica per immagini radioterapia oncologica ed ematologia fondazione policlinico universitario Gemelli prego professor Valentini grazie grazie se già la parola intelligenza artificiale un po' ci disagia il fatto che questa rimanda alla trasformazione digitale della medicina può creare ancora dei problemi maggiori noi sappiamo però che la medicina moderna è basata moltissimo sulla centralità del paziente dei valori del paziente che sono diversi perché quello che vale per una donna una mamma di famiglia è diverso da quello che può valere per una persona molto anziana che può valere per un lavoratore o per un professionista ma dove è che questi valori poi si mettono in gioco dove si concretizzano si concretizzano nella relazione che il paziente ha con gli operatori sanitari non solo nel dialogo con gli operatori sanitari ma anche con l'organizzazione che la sanità offre con le informazioni che dà con anche le possibilità di poter partecipare alle decisioni però noi sappiamo che il paziente è fragile è fragile perché soffre ha una malattia è fragile perché ha paura ma io penso che sia fragile anche perché non è preparato a essere paziente se ci pensiamo anche solo per prendere una patente noi facciamo dei corsi ma non siamo mai andati a scuola per imparare cosa significa essere paziente in che ambienti mi trovo come si prende una decisione come si arriva a una diagnosi per cui io parlo con molto piacere qui nell'Eopati nell'Accademia dei pazienti esperti perché si ha proprio bisogno di questa interazione come vedete nell'immagine c'è discreta la presenza di qualcosa che nella relazione paziente operatori sanitari ormai data per scontata negli ospedali un computer questo ormai è ubiquitario dappertutto lo troviamo che cosa sta offrendo la intelligenza artificiale dietro quell'immagine del computer fondamentalmente due cose rende questa parola strana interoperabile la presenza di tante informazioni perché ormai tante cose sono digitalizzate dai referti degli esami ai valori ai dati di laboratorio a tante nostre malattie che abbiamo avuto alle vaccinazioni che abbiamo fatto ecco l'interoperabilità consente di avere di avere queste informazioni sul monitor selezionate proprio per quello che si deve fare in quell'ambiente se sei su una degenza nel reparto se sei dentro un ambulatorio nell'ambulatorio e un po' lo stanno facendo anche i pazienti quando andando in internet cercano che cosa c'è sul monitor legato alla loro malattia ma come sappiamo il dottore internet purtroppo fa fare anche degli errori perché il paziente come abbiamo detto non è preparato quindi accanto a questo mettere in connessione e selezionare i dati per quello che ti servono in quel momento la intelligenza artificiale ti aiuta anche a prendere delle decisioni più appropriate in che modo facendoti delle predizioni cioè guarda che potrebbe avvenire così prima Michele ricordava la medicina di corte adesso l'intelligenza artificiale crea delle corti molto individualizzate con pazienti che hanno patologie identiche ma che non che sono stati tutti visti da quel singolo medico o in quel singolo ospedale ma proprio per l'interconnessione in tutto il mondo ti crea delle corti di pazienti simili e ti fa capire come sono andati e ti aiuta insieme al paziente a decidere questa intelligenza artificiale non è più solo però legata all'ambiente ospedaliero agli ambulatori adesso attraverso tutti i nostri iphone braccialetti arriva a casa ti porta delle informazioni ma ti può anche guidare nel tuoi comportamenti ricordare di prendere le terapie guardare se hai fatto i passi che servivano se non hai mangiato troppo bene tutto questo è quello che sta diventando questa medicina sempre più digitale però a volte è fastidiosa no a volte io quando entro nella macchina la sera che mi compare sul cruscotto quanti minuti ci metto per andare dove io voglio andare è un po' un'intrusione come fa la mia macchina a sapere che io voglio andare proprio lì sì è utile che mi dica questo però insomma ecco allora io vi racconto velocemente una storia che stiamo realizzando basata sull'intelligenza artificiale con spero i pazienti sicuramente per i pazienti che invece di essere fastidiosa vuole utilizzare la bellezza dell'arte noi abbiamo attivato un progetto che vuole utilizzare i canali dell'arte per attrarre i pazienti a fare prevenzione non come su un altro settore oltre a quello che hanno fatto vedere Giovanni Scambia e Guido Costamagna che prevengono delle malattie che devono venire ma quando uno ha una malattia ed è in cura deve prevenire gli effetti collaterali quelli che sono molto fastidiosi che rendono penoso già un percorso di malattia e quindi abbiamo ipotizzato perché non utilizziamo la bellezza dell'arte per prevenire questi effetti collaterali in pratica abbiamo la solita videata nella quale però c'è un accanto a tutte le interconnessioni che dicevamo prima questo progetto art for art che cos'è abbiamo messo in fila i grandi canali dell'arte la musica il cinema i monumenti la bellezza dei monumenti la pittura gli aromi il design le bellezze naturali e con i nostri psicologi e sempre di più speriamo con i pazienti le grandi di emozioni e valori che il paziente sente messi in discussione per la sua malattia soprattutto in questo caso la malattia oncologica l'entusiasmo l'amore la cura di sé la passione il coraggio l'attenzione l'amicizia la spiritualità per ognuno di questi incroci musica e passione cliccando lì compaiono dei video che sono stati selezionati proprio perché sono veicoli di riflessione di bellezza su quel tema e abbiamo trovato artisti che ci stanno dando donando dei contributi fortissimi bellissimi selezionati proprio su temi pezzi di concerto per la passione per l'entusiasmo per l'amicizia o pitture selezionate anche con delle ricostruzioni tridimensionali che mettono in gioco quei valori che le nostre psicologhe hanno identificato appropriati e che se il paziente oltre a avere intrattenimento decide di ingaggiarsi ecco che parte quello che l'intelligenza artificiale governata può dare all'uomo c'è una dietro una piattaforma che significa che c'è la possibilità di poter capire quali sono le dimensioni valoriali ed emotive del paziente un po' se ci pensiamo come youtube se io entro mi offre quasi sempre i video sui argomenti che io sono andato a vedere che mi piacciono di più ecco si può profilare con il paziente che accondiscende attraverso un'interazione con le dinamiche che i psicologhi hanno identificato essere utili per capire la resilienza la capacità di partecipare di ingaggiarsi del paziente quali sono i percorsi migliori che possono essere offerti a lui per motivarlo e per identificare presto magari dei primi effetti collaterali e quindi stroncarli all'inizio ma soprattutto renderlo partecipe della suo benessere nonostante un percorso di cura questa profilazione però si lega con tutte quelle informazioni cliniche che in un ospedale sono connesse sul territorio che arrivano a creare a generare questi progetti di intelligenza artificiale proprio una personalizzazione massima della cura e quindi il programma ti offre un percorso artistico che aumenta la tua resilienza ma questo non è solo un aspetto nel reparto che utilizzerà questa progettazione artistica stiamo come si ama dire cablare costruire degli ambienti apposta la sala d'attesa sarà un odeon dove sui grandi schermi selezionabili dai pazienti sarà possibile vedere dei corti abbiamo dei film selezionati apposta dei pezzi di film importanti selezionati e abbiamo anche dentro una sala immersiva dove uno può fare una passeggiata nelle Dolomiti andare a vedere un una museo continuare quella sua interazione di resilienza e di cura tutto questo personalizzato da un supporto che punta proprio a questo a dare un contenuto alla relazione quando questa relazione è un accudire il paziente un donare al paziente un'attenzione a tutti i suoi valori ti fa vedere che anche l'intelligente artificiale può fare delle cose utili soprattutto se fatte insieme per l'umano e con l'umano grazie molte grazie non funziona dobbiamo passare il microfono ed è la volta di ricordare la impotenza affascinante suggestiva del vecchio medico di medicina generale quello che si chiamava una volta condotto denominazione francamente respinta dai maggior numero di questi colleghi straordinari allora passiamo il microfono ah ecco fatto prego medico condotto anelava di avere l'intelligenza artificiale avrebbe coronato un sogno quello di essere aiutato da qualcosa di obiettivamente più capace della sua semiotica tattile lui auscultava lui metteva l'orecchio sul torace doveva accontentarsi dell'intelligenza vera quella umana e terminava sempre con una carezza l'aver toccato il paziente quando non addirittura in un bacio perché era il sentimento più autentico della sua disperata volontà e voglia di avere qualcosa in più per sedare guarire curare almeno lo ricordo io perciò ne ho nostalgia e veder coronare questo sogno nella tua bellissima narrazione per me è stato un risarcimento di quando unico bambino di tutta la nidiata del palazzo di mio nonno ero legittimato a partecipare alla visita di Don Ciccio perché io ero curioso perfino il gatto veniva allontanato ma io potevo restare e vedevo la sua intelligenza umana che si disperava e quella disperazione posso dire cos'era una preghiera una preghiera così veniva interpretata da tutti e adesso a proposito abbiamo girato pagina e siamo alla testimonianza di una persona Paola Kruger che rappresenta un'organizzazione l'acronimo vuol dire europeo lo dica lei per favore al microfono possibilmente European Patients Academy o Therapeutic Innovation e quando arriverò mai a avere questa dizione io mai ci vorrebbe un traduttore artificiale allora ecco qui giriamo pagina e passiamo la linea ai pazienti ai pazienti o a quelli che stanno dall'altra parte del confine adesso siamo tutti dalla stessa parte molto spesso grazie all'intelligenza attenzione guardi che il dottor Google non si è mai laureato quindi io non incoraggio le incursioni dei pazienti nel mondo no perché i pazienti devono essere colti per farlo bisogna essere minimo laureati come lo è la nostra Paola prego a lei la parola grazie mille noi non incoraggiamo i pazienti ad andare su Google infatti grazie bene innanzitutto permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questa bellissima serata è per me un grande piacere essere qui e rappresentare un po' i pazienti esperti siamo tanti faccio un po' da portavoce per tutti e ritorno un po' sul ruolo di quello che è il paziente esperto nella sperimentazione clinica visto che poi il corso Eupati forma pazienti proprio sulla sperimentazione clinica ecco come nasce un po' questa idea del paziente esperto nasce da un'esigenza proprio dei pazienti che appunto vivendo una malattia ne comprendono tutti i suoi aspetti e in fondo anche i pazienti desiderano essere protagonisti e poter contribuire in qualche modo anche alla ricerca al proprio percorso di cura e normalmente però quello che a loro manca è proprio la preparazione necessaria per partecipare alla pari questo è la grossa diciamo mancanza che hanno i pazienti e che in qualche modo si cerca di colmare con il corso Eupati e questo è un po' la razionale del concetto del paziente esperto ma in più diciamo che oggi ci sono anche degli strumenti legislativi come il nuovo regolamento europeo sulla sperimentazione clinica la legge Lorenzin del 3 2018 che prevedono un sempre maggiore coinvolgimento dei pazienti nelle sperimentazioni cliniche perciò è un po' una chiamata a formarsi anche per noi pazienti e da qui nasce appunto il progetto Eupati che ormai come molti sanno è un progetto europeo che quindi nasce proprio in ambito europeo io tra l'altro ho fatto proprio il corso europeo ma che poi ha sviluppato delle piattaforme nazionali e noi siamo molto fortunati in italia perché abbiamo una nostra piattaforma che appunto vede l'accademia del paziente esperto eupati come diciamo il braccio degli eupati europe e che porta in italia il corso eupati come potete vedere da questa slide eupati italia chiamiamola così l'accademia del paziente esperto eupati è cresciuta molto in questi anni innanzitutto possiamo dire che ci sono tre partner istituzionali di altissimo livello come l'istituto superiore di sanità AIFA e anche farmindustria quindi diciamo che sono coinvolti a 360 gradi tutte le istituzioni più importanti ma come potete vedere si tratta di una collaborazione appunto multi stakeholder cioè che comprende tutti i portatori di interesse e che si è molto allargata in questi ultimi anni e ci ha permesso appunto di poter formare al momento sono 44 i pazienti formati ma ce ne sono altri 50 in corso di formazione più molti altri mini corsi webinar workshop insomma tutto quello che è possibile fare per aiutare i pazienti ad essere formati ed informati e quindi poter contribuire in maniera pratica alla ricerca cosa significa però in pratica avere dei pazienti esperti innanzitutto significa avere una ricerca di migliore qualità e centrata sulle necessità dei pazienti di questo parlerò con un paio di esempi subito dopo però vuol dire anche avere una maggiore adesione alle evidenze scientifiche facciamo il caso del vaccino covid ecco sarebbe interessante chiedere quanti pazienti esperti non hanno intenzione di farlo io credo che non troverete nessuno proprio perché la conoscenza è quella che poi ci permette di aderire maggiormente ad una proposta una maggiore prevenzione pensiamo per esempio alle infezioni ospedaliere dove il paziente sicuramente può giocare un ruolo importante ma pensiamo anche a quello che ci ha detto prima il professor Costamagna della bassa adesione nel Lazio agli scrini di prevenzione per il tumore del colon retto ecco la funzione anche del paziente esperto è appunto proprio quella di disseminare informazioni di qualità tra cittadini e altri pazienti e quindi aumentare la componente di adesione dei pazienti o dei cittadini nel caso non si trattasse di patologie croniche a quello che è l'evidenza scientifica la formazione in ricerca clinica però non è solamente utile nel mondo della farmaceutica ma anche nel mondo dei dispositivi medici abbiamo parlato di diversi dispositivi medici questa sera e a maggior ragione sa per entrare in vigore un nuovo regolamento europeo in cui si rinforza il ruolo del paziente infatti l'articolo 65 di questo nuovo regolamento cita testualmente che gli stati membri dovrebbero assicurare la partecipazione di persone non dette ai lavori in particolare di pazienti o loro organizzazione quindi questo è un altro segnale che il campo dei pazienti esperti in qualche modo si deve un po' ampliare e che quindi questa conoscenza del paziente esperto nella sperimentazione clinica è quanto mai necessaria ecco questa slide ovviamente non perderò tempo a commentarla ma mi piace moltissimo perché questa è una slide sviluppata da Eupati e che ci dà un'idea così proprio guardandola di quanti in quanti ambiti i pazienti possono essere utili e attivi nella sperimentazione si pensa sempre che in fondo il paziente è alla fine della filiera è un po' quello che si chiama l'utilizzatore finale in realtà se noi guardiamo il percorso di sviluppo di un farmaco ci sono tantissimi tantissimi ruoli per i pazienti e a maggior ragione per i pazienti consapevoli e formati però questa sera ho pensato di prendere due punti principali nella ricerca clinica che secondo me possono rappresentare molto bene quello che è il contributo del paziente esperto poi nella realtà perché spesso si parla del paziente esperto ma non si capisce bene dove sia incisivo il primo esempio è la definizione di bisogni insoddisfatti cioè come quando parte la ricerca in pratica il secondo punto si riferisce alle metodologie per la raccolta dei dati qualitativi e validazione di patient reported outcomes i patient reported outcomes sono gli esiti riferiti dal paziente e che sono in genere sono dei questionari che i pazienti compilano per riportare dati di qualità della vita allora la definizione di bisogni insoddisfatti perché è importante avere un paziente esperto prima di tutto perché l'identificazione e la soddisfazione di un bisogno potrebbero essere diversi per i pazienti rispetto a quello dei clinici classico appunto il caso magari dell'oncologia in cui spesso per un clinico diciamo l'obiettivo è la sopravvivenza per un paziente può essere magari di sopravvivere un po' meno ma di sopravvivere meglio quindi l'importanza di far emergere quello che è il bisogno prioritario del paziente anche nel disegno di un trial è fondamentale per poi il successo della sperimentazione clinica o anche magari forse per far sì che vengano inclusi degli end point anche secondari di qualità della vita quindi non basta raccogliere le preferenze dei pazienti ormai è qualcosa che si fa abbastanza in maniera rutinaria ma serve anche chi sappia veicolarle efficacemente nel protocollo ecco il primo esempio che vi porto è la definizione su cui ho lavorato questi esempi sono principalmente la sclerosi multiva perché questa è il mio la mia ambito di patologia però devo dire che noi lavoriamo anche su altre patologie insomma non è esclusivo è uno studio che non posso svelare troppi dettagli perché appunto è in questo momento sta partendo ma è uno studio di fase 1 l'ho scelto proprio perché è difficile trovare il convolgimento dei pazienti in uno studio di fase 1 è molto più semplice vederlo in studio di fase 3 fase 4 mentre invece come ricorda giustamente l'azienda che ha sponsorizzato questo studio la fase 1 è critica perché è da lì che poi parte tutto il percorso dell'approvazione della medicina allora qual è stato il ruolo del paziente esperto in questo specifico studio allora aiutare a definire la popolazione da arruolare perché spesso appunto come è stato questo caso si era pensato di arruolare c'erano due gruppi di pazienti due sottopopolazioni ma in una popolazione specifica noi abbiamo fatto capire erano un gruppo di pazienti esperti che un paziente con quelle caratteristiche quindi stabile che magari prendeva una terapia di prima linea non avrebbe avuto nessun incentivo per arruolarsi in un in un clinical trial e che quindi la possibilità di arruolare in quel particolare braccio sarebbero state bassissime l'altro punto in cui abbiamo contribuito come pazienti esperti è stato quello di rendere il protocollo più in linea con le necessità dei pazienti e ridurre l'impatto del follow up perché spesso appunto viene definito un programma per i pazienti che però può essere veramente molto difficile da sostenere e che può portare dei pazienti poi ad abbandonare lo studio con tutte le conseguenze del caso ecco questo purtroppo venendo dall'azienda non potevo fare in italiano però volevo solo farvi vedere come l'azienda ci ha ringraziato per appunto tutto quel feedback che ha ricevuto da parte nostra come questo feedback è stato strumentale in diciamo definire il disegno dello studio ridurre anche il carico per i pazienti e a facilitare un migliore una focalizzazione maggiore sulle persone appunto che convivono con la sclerosi multipla e che quindi il protocollo è partito e appunto con grandi ringraziamenti dell'azienda che ha potuto avere poi un protocollo molto più più vicino alle esigenze del paziente un'altra slide di cui ringrazio Chiesi perché ne stavamo giusto parlando mi hanno detto come sono felici di aver coinvolto dei pazienti esperti upati in alcuni dei loro protocolli e loro ho detto per piacere fatemi questo favore e mettetemelo su una slide e quindi questa per fortuna in italiano potete vedere come anche da parte loro hanno riportato che l'inclusione di pazienti esperti upati per loro è stato veramente fondamentale e soprattutto sottolineo il terzo punto dove si parla di avviare un percorso di cosviluppo per tutte le fasi di ricerca quindi in realtà come possiamo vedere il paziente esperto ha sicuramente un valore all'interno di questo percorso il secondo punto che secondo me è molto interessante riguarda appunto le metodologie per la raccolta di dati qualitativi e validazione appunto dei famosi pesce report and outcomes gli esiti riferiti dai pazienti perché questo è un ambito importante primo perché non sempre le metodologie per la raccolta di dati qualitativi sono a misura di paziente per esempio a me capita spesso di vedere questionari preparati senza il coinvolgimento di un paziente esperto e che possono anche non catturare aspetti essenziali che invece hanno un impatto sulla qualità della vita che è poi proprio il punto che vogliono rilevare l'FDA che è l'ente regolatorio americano che è molto avanti in tutto quello che è il coinvolgimento dei pazienti nello sviluppo clinico richiede che nella fase di validazione di nuovi pesce reported outcome sia coinvolto un paziente e ovviamente un paziente esperto possiede la formazione necessaria per interfacciarsi alla pari con i clinici e definire quali item sono più rilevanti l'esempio due che oggi vi porto è questo studio oracle adesso non mi voglio focalizzare su quello che è appunto il titolo dello studio quello che è importante vedere che sono stati inclusi due pesce reported outcomes uno specifico e uno invece generico allora dopo aver finito questa sperimentazione l'azienda ha deciso di convocare un advisory board su risultati di questi pros usati allo studio nella fase 3 allora loro hanno selezionato un pro generico e uno specifico per patologia il pro specifico era stato selezionato perché dopo un'indagine dell'azienda è il risultato il più frequentemente usato nelle sperimentazioni questa è la razionale per cui era stato scelto l'azienda era interessata soprattutto da alcuni sintomi specifici che ovviamente rispondevano bene a quella che era la terapia che proponevano risultato allora il pro generico non indicava un miglioramento nella salute percepita era stazionario gli esiti riferiti dal pro specifico indicavano che i pazienti in trattamento con il nuovo farmaco mantenevano una qualità di vita stabile quindi dal punto di vista dell'azienda era tutto molto comunque positivo perché insomma il paziente manteneva la qualità della vita come l'aveva prima e che quindi insomma per loro era un ottimo risultato quindi tutto bene no innanzitutto noi abbiamo fatto capire che prendere un farmaco che può portare anche dei grossi rischi e mantenere la qualità della vita uguale a quella che avevi prima di prendere il farmaco non era proprio un grande risultato dal punto di vista di un paziente ma poi c'erano stati degli errori perché gli esiti riferiti nel pro generico non erano utili perché il pro non era fit for purpose come si dice in linguaggio tecnico cioè non era appropriato per quel particolare studio e per catturare i bisogni specifici della popolazione di riferimento mentre invece gli esiti riferiti nel pro specifico non erano significativi perché la popolazione di riferimento non era stata selezionata per i sintomi specifici da indagare per cui i pazienti che non avevano i sintomi erano stati inclusi nella valutazione conclusione non coinvolgendo un paziente esperto dall'inizio l'azienda aveva selezionato due pros non adatti alla popolazione arruolata per cui non ha ottenuto le risposte utili dai pazienti che avrebbero potuto portare la loro sperimentazione ecco questi sono due esempi concreti che vi volevo dare per far capire quanto sia importante appunto coinvolgere i pazienti esperti in una sperimentazione clinica ecco in ultima analisi i pazienti esperti aiutano ad incorporare la visione del paziente nella ricerca senza la quale si rischia di non ottimizzare l'impegno di risorse che oggigiorno è sicuramente uno degli aspetti principali grazie la note che mi nasce spontanea dopo aver ascoltato questa relazione è cercato di capire e ho capito gran parte delle ragioni che sono a monte di questa Eupati e risiede nella commedia il malato immaginario del collega Moliere il quale testo è perfetto per incentivare il successo di Eupati perché sei malato immaginario invece di oziare tra sai cosa disse Moliere quando gli chiese ma di che è morto tu zio lui disse di tre farmacisti e quattro medici quindi ci rendiamo conto che la la presunzione di sapere in medicina non è come la presunzione di sapere in filosofia neopositivista è drammatica perché può portare a errori catastrofici a titubanze a soprattutto a visioni funeste del futuro ed ecco perché noi ci affidiamo alle persone che qui come detto bene in questa sigla americana sono i pazienti accademici sono bravi a capire e a spiegare chi meglio di loro no? appunto allora ascoltiamo adesso la Stefania signora Stefania Canarecci che è presidente di Amici questa che la vediamo in collegamento che già ci sorride questo questo acronimo diciamo così questa sigla naturalmente è furbissima e noi la appoggiamo subito sulla fiducia comunque la traduciamo associazione malattie infiammatorie croniche intestinali allora le malattie si sono associate nella persona dei loro infermi e quindi noi ascoltiamo adesso la sua relazione alla parola ne ha facoltà prego allora buonasera innanzitutto buonasera a tutti voi che siete degli studi ancora non ci siamo salutati e ringrazio la caudemia del paziente esperto Eupati nella persona di Silvia Starita che è una grande amica con la quale abbiamo fatto dei grandi progetti anche in passato ne stiamo facendo tantissimi altri come abbiamo visto dalla presentazione della Kruger ci sono 71 associazioni tra cui ci siamo anche noi che inviamo sempre dei nostri volontari a rendersi sempre un pochino più esperti perché è vero che noi abbiamo la patologia ma abbiamo anche diciamo l'onere e quello che comunque sia riteniamo praticamente più giusto di doverci comunque sia istruire come diceva prima il dottor Mirabella lei prima mi parlava del medico condotto mi parlava pensi che io ho avuto la diagnosi di patologia perché anch'io ho questa patologia sono una volontaria ma allo stesso tempo sono una paziente nel lontano 1994 e me la fece proprio il mio medico condotto dell'epoca e me la fece un anno e mezzo prima addirittura che mi fecero la diagnosi quindi io già prendevo i farmaci perché già sapevo che malattie avessi senza comunque sia avere nessuna diagnosi da parte dello specialista mi fu fatta praticamente due anni successivi il problema proprio delle nostre patologie che sono comunque sia delle patologie che al momento in Italia si stimano siano 250.000 persone a soffrirne parlo di stima in quanto praticamente non c'è un registro unico nazionale per cui non sappiamo effettivamente quanti siamo si dice che in Europa siano circa 3 milioni di persone e che praticamente comunque sia sono delle sono delle patologie da un esordio subdolo nella diagnosi praticamente quindi il medico di medicina generale che è una figura essenziale che conosce quindi la persona che conosce la storia quindi familiare attraverso i sintomi quindi proprio raccontati dalla persona può arrivare ad un sospetto di malattie infiammatorie croniche intestinali attivando quindi così dei percorsi che possono essere di approfondimenti diagnostici e fatto quindi di visite di esami di esami strumentali quindi di laboratori indirizzando quindi poi le persone ad uno specialista come abbiamo sentito poc'anzi il fatto di accedere praticamente a dei centri specializzati può comunque sia essere diciamo l'iter migliore per la persona primo perché arriva la diagnosi più precocemente quindi c'è la possibilità di accedere comunque sia alle migliori cure nel momento giusto secondo perché comunque la persona non si stressa a dover girare a cercare praticamente di trovare praticamente la causa di quello che lo fa stare male e vi basti pensare che io per esempio in passato fu inviata addirittura dallo psichiatra perché le nostre patologie negli anni 50 erano etichettate come patologie psicosomatiche quindi praticamente mi dicevano che la causa della malattia era da riconsiderare praticamente nel mio modo sbagliato magari di pensare o comunque di rapportarmi magari al tipo di vita che conducevo e addirittura fu colpata addirittura mia madre mi ricordo che poi con gli anni questa cosa è venuta a mancare e quindi insomma veniva accusata perché mi accompagnava sovente a fare le visite io non ero neanche maggiorenne e quindi insomma poi questa cosa insomma fortunatamente è andata è stata è stata cancellata è stata riconsiderata e si è visto praticamente che non si può rimandare la malattia al paziente dicendo che in luce è qualcosa che non va il fatto però psicologico è comunque un fattore che viene considerato tra i tre fattori che possono innescare la malattia considerate che sono delle patologie di cui al momento non esiste praticamente una causa scatenante c'è una risposta abnorme da parte del nostro sistema immunitario sull'intestino però ci sono anche delle concause che possono essere comunque legate a dei fattori ambientali così come anche l'ansia e lo stress come associazione infatti abbiamo attivato come potete vedere praticamente degli sportelli di ascolti psicologici che sono proprio indirizzati ai pazienti ma anche ai caregiver quindi ai familiari alle persone che accompagnano i pazienti perché è fondamentale che anche loro condividano il percorso praticamente che fa il paziente e quindi praticamente sono degli spazi quindi di ascolto e di riflessione e un'occasione quindi per elaborare insieme a uno psicologo specialista quelli che possono essere i vissuti emotivi e gli incontri praticamente avvergono in riservatezza e sono praticamente gestiti dall'IRPI che è l'Istituto Romano di praticamente di psicologia e di psicodinamica integrata a cui noi praticamente ci affidiamo e poi ci sono dei gruppi invece quindi non solo colloquio individuale ma anche dei gruppi praticamente che rappresentano quindi degli spazi sempre protetti in cui i pazienti possono condividere la propria esperienza quindi ad esprimere le loro emozioni e i sentimenti vissuti i pensieri e questo aiuta a sentirsi meno soli quindi la condivisione praticamente ci fa sollevare da quelli che possono essere i problemi individuali e quindi può essere un'occasione anche però di essere presente di apprendimento di nuove modalità comunicative e relazionali per sviluppare quindi delle risorse praticamente interiori che ognuno di noi ha per esempio io ho decisi di fare volontariato molti anni fa perché decisi che non potevo soppondere alla malattia e quindi ho cercato di portarla ad un mio punto di forza quindi a beneficio degli altri e la mia rabbia praticamente ho cercato di canalizzarla aiutando gli altri questo per esempio può essere diciamo uno dei tanti esempi che potremmo comunque sia individuare le malattie insiamatorie cronico dell'intestino non sono comunque sia soltanto malattie che riguardano l'apparato intestinale ma hanno praticamente diciamo delle caratteristiche che si possono presentare che sono extra intestinali che molto spesso vengono identificate come le patologie della pupù no? il fatto che noi andiamo molto in bagno che abbiamo bisogno di ricercare sempre un bagno ma molto spesso la nostra quotidianità non è soltanto quella ma è anche il dover comunque sia magari combattere con problemi articolari con infiammazioni oculari trombosi venosi insomma tutta una serie praticamente di extra intestinali quindi di situazioni che possono rendere praticamente molto invalidante e comunque sia diciamo difficile la quotidianità per una persona praticamente che ne soffre diciamo che negli ultimi anni abbiamo praticamente avuto l'avvento dei farmaci biologici che in qualche modo praticamente hanno contribuito ad alleviare il nostro stato di invalidità e l'accesso però alle cure purtroppo non è omogeneo su tutto il territorio nazionale perché comunque la sanità ha una gestione federata e quindi non garantisce a tutti un accesso ai farmaci perché questi sono considerati dei farmaci ad alto costo e come dicevo precedentemente non essendoci una stima praticamente di quanti pazienti praticamente ci sono in Italia ovviamente è anche difficile poter fare praticamente una stima dei costi che queste persone possono avere sul servizio sanitario nazionale e quindi predisporre quella che può essere una spesa diciamo che molte persone ci domandano praticamente se come avrebbero potuto capire di essere predisposti o addirittura prevenire queste patologie ci sono dei familiari dei pazienti giovani considerate che il 25% praticamente di nuove diagnosi è della pediatria fa parte per quanto riguarda la pediatria e spesso praticamente i familiari si colpevolizzano chiedendosi se magari facendo avendo fatto magari alcune cose rispetto ad altre e se la prevenzione sarebbe potuta essere praticamente un modo per alleviare magari il proprio caro ed evitare estenuanti ricerche ed esami al quale invece si è dovuto sottoporre solo per arrivare magari ad una semplice diagnosi purtroppo quindi come dicevamo la causa principale e il principale di una causa specifica praticamente l'assenza di un unico responsabile rende impossibile creare un test specifico e la strada per la diagnosi può essere tortuosa e richiedere praticamente anche alcuni anni come vi dicevo io nonostante erano erano molti anni fa io ci mesi quasi due anni insomma ad arrivare ad una diagnosi specifica pur ovviamente essendo indirizzata dal mio medico di condotto praticamente ha già la terapia e quindi praticamente la progressione verso forme più gravi può essere praticamente estese può essere si ripercuotono quindi si vanno a ripercuotere su quella che può essere la qualità di vita di vita del paziente sotto vari punti di vista comunque voglio dire noi abbiamo comunque sia un tessuto sociale un tessuto personale lavorativo ci sono dei costi diretti sanitari dei costi indiretti e praticamente questo fa considerare praticamente le nostre patologie come praticamente delle patologie veramente ad impatto veramente sociale e mi piace praticamente rappresentare quello che può essere diciamo un approccio per la persona perché comunque noi siamo pazienti ma siamo persone con patologia non siamo diciamo soltanto la nostra malattia e nella nostra patologia e quindi nella nostra diciamo vita abbiamo bisogno di quelle che sono le relazioni di cura e non soltanto che le cure ci vengano calate direttamente dall'alto ma che dobbiamo essere e vogliamo essere praticamente partecipi in questo per poter praticamente diciamo poi aderire anche a quelli che sono i trattamenti essere consapevoli dei trattamenti che andiamo a fare proprio perché ci siamo resi più esperti rispetto magari ad un tempo e quindi praticamente entrano in gioco tante figure che non che ruotano intorno a noi perché non vogliamo stare al centro ma che insieme a noi praticamente ci aiutino quindi ad innalzare quella che è la qualità di vita rendendo praticamente la persona non soltanto un costo ma un valore aggiunto per la società perché una persona che sta bene e fa sta bene per le persone che gli sono intorno ma è anche produttiva e quindi può essere comunque sia per la società un valore aggiunto e non una persona veramente da considerare come qualcosa insomma che va semplicemente a togliere quindi vi lascio con questa con questa immagine di quest'albero dove praticamente il paziente con mici praticamente che potrei essere io ma ci potrebbe essere benissimo anche un altro paziente che può essere comunque sia di un altro tipo di patologia dove praticamente intorno a lui praticamente ruotano tutte queste figure da praticamente dal radiologo dal paziente esperto in di tutto ci ricerca i cittadini le istituzioni gli enterostomisti endoscopisti quindi praticamente lo psicologo il nutrizionista quindi tutta una sfera di persone che possono portare al benessere della persona con patologia e quindi renderla parte integrante di questa società e io vi ringrazio e con questo chiudo grazie che assevera quanto è scritto nello stemma dell'Eupati conoscere per decidere e mi sembra un motto da condividere questo dell'Accademia del paziente esperto così traduco in italiano ma c'è scritto è facilissimo ecco adesso diamo la parola a un altro medico a uno scienziato uno scienziato corretto in tempo che fa parte dell'osservatorio trial e delle malattie rare non so vuole spiegarlo meglio? certamente allora grazie innanzitutto cominciamo spiegando che è l'osservatorio trial è una piattaforma un progetto che si occupa della sperimentazione clinica nasce da un'esigenza molto pratica lavorando in ambito di sperimentazione clinica da tanti anni mi sono reso conto a un certo punto che sia personalmente sia per le richieste che ricevevo molto frequentemente che era molto difficile accedere ad alcuni tipi di informazioni diciamo noi abbiamo demonizzato e sono assolutamente d'accordo abbiamo demonizzato fino adesso dottor Google e internet in generale come fonte di ricerca ma proviamo a chiedere in giro a tutti i nostri conoscenti e cerchiamo fatemi sapere se trovate qualcuno che di fronte a una qualsiasi diagnosi che sia più o meno grave non vada a cercare immediatamente appena rientra a casa si butta al computer e va a cercare un'informazione su questa esigenza questa informazione diventa complicata da trovare diventa molto più semplice trovare una cattiva informazione una buona informazione informazione di qualità diventa complicata da trovare e a questo punto nasce questo progetto che è nato come un'idea ha avuto un periodo di incubazione diciamo medio-lungo e poi con una serie di fortunate e meno fortunate coincidenze nel senso coincidenze volute è diventato sta diventando proprio in questi giorni qualcosa di veramente concreto quindi vi parlo è diventato quindi osservatorio trial un'associazione senza scopo di lucro che ha un obiettivo ambizioso molto ambizioso che è quello di creare una cultura della ricerca clinica in Italia in Italia la ricerca la ricerca clinica in generale è stato menzionato prima anche oltre a un patrimonio ovviamente scientifico clinico medico e di conoscenza generale genera un patrimonio anche logistico e organizzativo enorme un miglioramento delle strutture dove si fa ricerca qui il gemelli ne è un esempio concreto quindi valorizzare questa ricerca clinica è un grande può essere un grande risultato per tutto il paese quali sono le criticità in Italia particolarmente innanzitutto la difficoltà dell'accesso all'informazione sugli studi clinici è un non c'è da qualche anno purtroppo non abbiamo un punto di riferimento istituzionale dove reperire queste informazioni la domanda di informazione scientifica ci sono poi metto la referenza non viene soddisfatta manca una repository diciamo una banca dati un posto unico un portale dove reperire tutte le informazioni che riguardano l'ambito della sperimentazione clinica l'abbiamo menzionato più volte la ricerca di informazioni su internet non consente ai pazienti o a tutti coloro che cercano più o meno preparati di distinguere sempre quelle che sono notizie false da notizie vere e poi c'è una reale carenza di quelli che vengono definiti open data e quindi l'accessibilità reale al dato attraverso il quale noi che possiamo fare possiamo monitorare dei processi possiamo evidentemente evidenziare le eventuali criticità che ci sono in questi processi e nell'ambito della sperimentazione clinica nella gestione italiana prima Paola aveva menzionato il nuovo regolamento europeo la legge Lorenzin per esempio ci sono delle criticità ad oggi che dovrebbero essere risolti ma questo facendo questo noi faremmo saremmo soltanto un'altra voce in internet ma noi non vogliamo essere solo una voce in internet vogliamo che sia una voce autorevole quindi una delle prime attività che sono state create è stata quella di coinvolgere di creare un comitato scientifico come vedete un comitato scientifico di altissimo valore di alta rappresentanza altissimo valore delle persone che vi partecipano e quindi a garanzia oltre ovviamente a tutti i collaboratori a tutta la redazione a tutte le persone che collaborano in osservatorio trial che sono tutti esperti della materia c'è una linea guida una linea di indirizzo scientifica di altissimo livello ma qui siamo in accademia dei pazienti gli amici di Opati lo sanno benissimo non si va ed è lo scopo per cui è nato l'osservatorio trial dare la possibilità ai pazienti di arrivare ad alcune informazioni ed è quindi che stiamo proprio in questi giorni costituendo quello che è il board delle associazioni associazioni di pazienti di riferimento in modo che quello che ha menzionato Paola prima come per i pro i patient reported outcome come in quel caso si può sbagliare perché in realtà non si ha la percezione dalla parte del paziente si dà più valore a qualcosa piuttosto che a un altro con lo stesso obiettivo per evitare proprio questo vogliamo che le associazioni siano coinvolte e segnalino direttamente quali sono dal punto di vista del paziente le criticità le necessità cosa cerca il paziente cosa vuole vedere a cosa vuole arrivare e quindi l'accesso all'informazione l'informazione viene espletata noi come osservatorio trial siamo editori del sito della testata giornalistica sperimentazionicliniche.it è un portale che è già online nella sua versione non definitiva è una versione beta che abbiamo messo come beta ma è stata talmente utilizzata che abbiamo lasciato online è un portale di informazione vuole raccogliere tutte le informazioni che si faranno sulle sperimentazioni cliniche in Italia ricordiamocelo ci concentriamo in Italia e soprattutto l'innovazione per cui è stata poi lasciata la versione beta online è che abbiamo creato un motore di ricerca un motore di ricerca che sopperisce una mancanza strutturale italiana e con un trucchetto va a prendere raccoglie i dati dal maggior banca dati di sperimentazioni cliniche che è in America lì raccoglie una selezione dei dati e in qualche modo permette al paziente di tradurlo in italiano e quindi anche in assenza di una banca dati strutturata cosa che comunque noi vorremmo arrivare ad avere al momento il paziente anche che non sa l'inglese anche che non sa cercare la piattaforma che diciamo a livello medico professionale può fare una ricerca come semplicemente mettendo la sua patologia in italiano e ricevendo risposte in inglese ma traducibili in italiano tramite un link e quindi va bene questo su esperimentazioni cliniche punto it troverete un portale diciamo giornalistico dedicato però esclusivamente lo ripeto all'esperimentazione cliniche e vediamo un esempio io ho fatto una brevissima ricerca sulle tematiche che sono state trattate durante questa giornata questo interessante convegno e quindi ho fatto una cosa per farvi capire quanto può essere importante l'informazione se noi facciamo una ricerca questa fatta ieri come patologie gastrointestinali che ovviamente il professore non me ne voglia copre è abbastanza vasta come ricerca però ovviamente si può restringere noi troviamo che in arruolamento studi aperti all'arruolamento o che stanno per aprire all'arruolamento che risultano in queste due fasi quindi in cui il paziente può accedere troviamo ben 343 studi che coinvolgono l'Italia in diverse fasi di studio ora tecnicamente non entro sulla discussione delle fasi perché i pazienti esperti già lo sanno i medici assolutamente sì quindi però ci sono delle fasi gli studi clinici ovviamente vanno per fasi progressive sempre a tutela del paziente è una metodologia che viene fatta a tutela del paziente però una cosa che traduciamo questo dato che questo numero che lascia che per gli addetti ai lavori ha un significato ma per i non addetti ai lavori ha un altro ha poco significato e concentriamoci su queste su quelle che sono le fasi di studio che vuol dire che in questi studi queste ricerche cliniche che sono che sono in corso vuol dire che interessano 70.939 pazienti di cui ben oltre 42.000 sono quelli negli studi di fase 3 ovviamente questi 42.000 pazienti questi oltre 70.000 pazienti non sono tutti i pazienti che ne beneficeranno italiani questi molti sono gran parte sono studi internazionali però in cui l'Italia partecipa con qualche centro questo che vuol dire che se io ho questo tipo di patologia ho la possibilità di essere indirizzato dal mio medico in una ricerca clinica che di solito accedi si può accedere a una terapia più avanzata la stessa cosa è stato nominato prima il tumore dell'ovaio in questo momento ci sono 45 studi clinici che sono aperti al coinvolgimento di pazienti in Italia e in questo caso noi abbiamo un interesse di 15 oltre 15.000 pazienti di cui oltre 8.000 in fase 3 che è la fase più avanzata che è quella che precede poi la commercializzazione del farmaco sostanzialmente quindi io qui vorrei lasciare il messaggio l'informazione si traduce nella possibilità da parte del paziente e da parte del medico perché non dimentichiamo perché il paziente rimane spesato ma anche il medico non parliamo dei grossi centri come questo non parliamo dei grossi hub come si dice di cura ma parliamo dei piccoli ospedali ma anche del medico di famiglia il medico di base che non ha a volte accesso ad alcune informazioni un portale una banca dati un motore di ricerca che gli può dare queste informazioni con una garanzia di alta qualità scientifica io penso che possa essere utile e possa aiutare una parte di questi grandi numeri di pazienti molte grazie grazie per queste informazioni dottor Giulio D'Alfonso direttore dell'osservatorio trial allora abbiamo pochi minuti prima delle 20 mi pare che abbiamo possiamo dedicare professore voleva dire sì prego potevo dire al di là del oltre ringraziare questo volevo sottolineare però un aspetto che per il pubblico eupati potrebbe essere significativo quando abbiamo fatto vedere quel percorso di che il sistema di intelligenza artificiale offriva al paziente di percorso artistico delle varie attività noi non sappiamo ancora se questo diminuirà gli effetti collaterali aumenterà la capacità del paziente di fare una cura dovremo fare dei trial se questo percorso artistico aumenta la la capacità di essere soggetto a una terapia senza effetti collaterali questo configura uno scenario totalmente nuovo la digital therapy la digital therapy non è un'invenzione in Germania e in Francia già è possibile prescrivere accanto a una cura diabetica per lo scompenso cardiaco queste terapie che utilizzano le app per poter sopportare una terapia questa digital therapy è estremamente attenzionata nel mondo dell'oncologia qui al gemelli abbiamo un centro di intelligenza artificiale si chiama Generator e abbiamo molte aziende che sono venute importanti per farci fare una piattaforma che utilizzando questa tecnologia di intelligenza artificiale potrà prolungare somministrazioni di farmaci come gli immunoterapici che in oncologia sappiamo bene che sono in grado di prolungare in maniera estremamente innovativa e significativa la sopravvivenza di tumori molto diffusi però purché vengano somministrati lungamente nel tempo quindi Eupati di fronte a queste nuove tecnologie digitali sicuramente avrà da maturare un'espertise che non è solo nella fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 ma come introdurre la digital therapy che ha delle logiche per l'intelligenza artificiale che non risiedono nella piramide di Oxford dei trial ma ha solo una logica di validazione gli inglesi hanno introdotto il tripod un sistema di validazione diverso per poter far sì che il malato immaginiario di cui parlava prima Michele possa adesso anche ammalarsi perché oltre ai farmacisti ai medici ci sono i data scientist e gli ingegneri ti ringrazio Vincenzo per l'accettazione e hai risposto a una domanda che è anche arrivata ed era destinata a uno dei professori ad averla letta e volevano sapere se il paziente esperto può portare un valore aggiunto alla ricerca clinica certamente sì se a questo punto anche lui partecipa di questo banchetto gnosiologico collettivo che si chiama intelligenza artificiale per essermi convinto io che sono stato educato da intere biblioteche frequentate anche lacunosamente vuol dire che funziona certo mi fa ridere il narcisismo di molti addetti ai lavori fanatici però onestamente devo dire che io sono tra quelli che usa tutto con estrema prudenza mi ha spiegato un maestro di queste cose il mio antico maestro Silvio Ceccato che lavorava in cibernetica nel 64 ero al primo anno di università secondo anno di università lui diceva quanto più sono vanitosi tanto più saranno ignoranti quelli che utilizzeranno l'allora intelligenza artificiale che era una stanza grande così un computer che era una stanza grande così la percezione della bellezza stava cercando quella che cerchi tu e la bellezza nel senso degli scienziati è verità sembra che sia io il conferenziere invece no sono il moderatore mi dimentico quale volta Guido allora a me a loro a professori anzi a professore Costamagna molto rapidamente volevo chiedergli se dal suo punto di vista lui vede una collaborazione tra medici e pazienti o se vede che possa essere difficile per i medici accettare diciamo una tipologia di paziente esperto io credo che sia un valore aggiunto fondamentale d'altra parte ce l'avete fatto vedere no di come di quale contributo può dare un paziente esperto fin dalla costruzione di un trial clinico quindi sono assolutamente certo che questo il problema è che siamo all'inizio cioè far passare questo messaggio a livello globale e non soltanto nella in chi l'ha toccato con mano lei ha citato un'azienda farmaceutica nome e cognome che l'hanno vissuto e hanno detto ma miseria ragazzi ma qui stiamo svoltando e far passare questo 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 messaggio un po' dappertutto quindi io mi occupo soprattutto di di ricerca clinica nel campo dei nuovi device perché io faccio l'idraulico e quindi di quello mi occupo e quindi meno dei farmaci anzi quasi nulla dei farmaci bene riuscire a far passare a questo messaggio anche nell'ambiente della della ricerca dei device sarebbe molto importante perché probabilmente ancora non lo è stato in maniera sufficiente mi pare una risposta adeguatissima e un piccolo commento che mi permetti me lo permetta era un'ambizione umana cioè è stata trascurata secondo me per l'eccesso del positivismo quando hanno deciso che ci sono gli esperti per qualsiasi cosa anche per l'intelligenza no l'intelligenza e la ragione sono condivise dall'umanità e siccome non c'è disciplina più umana che la medicina che non è una scienza come tu stai insieme ad Aristotele no è una tecnè e quindi appartiene a tutti la medicina non vogliamo dare l'aurio a tutto il mondo però almeno ascoltiamoli quindi credo che per me questa di stasera è una scoperta cioè che esista già altra gente che la pensi come me non conto nulla però mi ritrovo e non avevo capito che sarebbe stata una buona occasione possiamo concludere con questo auspicio ecco che diventiamo tutti quanti un po' medici e i medici imparino anche e lo imparano lo imparano diventerà ad essere e restare pazienti nell'ambiguità della parola paziente grazie a tutti anche a quelli che ci hanno seguito come si dice da casa in italiano lo possiamo dire sì da casa qui se non parli inglesi non si fanno uscire arrivederci buon lavoro a tutti nell'interesse dell'umanità